Nel reparto di medicina dell'ospedale dell'Annunziata abbiamo trovato professionalità e umanità. Di questo siamo grati a tutto il personale, a cominciare dal responsabile dottor Flavio Rispoli. Così la famiglia di un'anziana solmonese, Giovanna Bonarrico Mazzagatti, deceduta purtroppo nel reparto venerdì scorso. La famiglia ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno prestato assistenza sanitaria e cure alla propria congiunta. Particolare gratitudine la famiglia espressa all'infermiere Cristian Oddi che ha dimostrato in giorni assai difficili e delicati grande umanità e calore, oltre che valida professionalità. Di questi tempi dove la sanità finisce alla ribalta, per l'emergenza e per aspetti negativi questa non può che essere una buona notizia.